buonasera a tutti bene buonasera a tutti ed eccoci qui connessi ci sono qui con me Filippe Narsi e Mirko Soave Mirko e Filippe vi lascio fare un saluto buon pomeriggio a tutti benvenuti e spero che troviate l'argomento di vostro interesse Filippe lascio la parola a te buonasera a tutti parliamo del Vini Rose fantastico grazie mille allora come potete vedere questo è un webinar che noi organizziamo in collaborazione con Perdomini e IOC come funziona questo webinar è un webinar un po' differente dagli altri a cui probabilmente avete già partecipato perché il relatore Filippe parlerà in francese in regia qui con me c'è Federica che tradurrà la sua voce in simultanea quindi voi sentirete direttamente in italiano intanto facciamo così prima di partire ufficialmente vi spiego un paio di regole un paio di trucchetti per capire come funziona la piattaforma per rendere la giornata il più interattiva possibile allora intanto durante la presentazione potete prendere potete fare degli screenshot se siete da cellulare è facilissimo se c'è una sala che vi interessa potete fare uno screenshot se invece siete da pc uscite dalla modalità schermo intero e sopra sopra le nostre webcam c'è un pulsante screenshot voi cliccate vi si salve in automatico la slide sul computer anche con le nostre foto quindi se volete già iniziare adesso provate a fare uno screenshot che ve lo tenete come ricordo magari lo potete condividere sui social tra l'altro voi potete interagire in qualsiasi momento con me che sono il moderatore che sono in regia quindi per qualsiasi cosa potete scrivermi se avete una domanda e io a fine relazione poi leggerò le vostre domande ai relatori allora intanto vedo che già alcune domande stanno arrivando vedo marzo che connesso cosimo che aveva salutato prima dall'inizio del webinar che saluto c'è pellegrina c'è concezio c'è alfredo davide gennaro ciao gennaro c'è andrea adesso perfetto ma come fare a interagire in chat se siete da cellulare c'è un pulsante a forma di domanda voi cliccate sopra e scrivete lì dentro se invece siete da computer c'è un pulsantino arancione voi cliccate su quel pulsantino arancione che è una freccina vi si apre uno strumentino e andate nella sezione chat domande e scrivete lì dentro e sono solo io a leggere quindi non preoccupatevi sono solo io a leggere e in caso trovassi dei commenti che può aver senso condividere con tutti voi tipo adesso Melissa che dice buonasera a tutti lo condivido con tutti quanti quindi vedrete apparire in chat il saluto di Melissa quindi intanto per farmi sapere se avete capito come funziona lo strumento scrivetemi a questo punto in chat se già producete dei vini rosati o se magari avete intenzione in questo 2020 di iniziare a produrne quest'anno quindi intanto fatemelo sapere in chat prima di iniziare poi voglio provare anche a condividere con voi la possibilità di invitare qualche amico che magari si è perso la comunicazione di questo webinar quindi condivido con voi in chat un link adesso devo metto un attimino guardate pazienza perfetto adesso condiviso con voi in chat un link praticamente potete prendere questo link e fare copia e incolla invitare magari un vostro collega che potrebbe essere interessato a questo webinar ma che non è giunto a conoscenza della della sua esistenza quindi magari invitatelo e ditegli di partecipare mi raccomando come per tutti i webinar c'è un numero massimo di partecipanti quindi non mettetelo su facebook perché sennò mi si blocca la piattaforma quindi lo prendete la copia e incollate su whatsapp a una sola persona grazie l'agenda di oggi dopo le presentazioni dei dei relatori anzi in realtà è Filippo Mirko farà soltanto un un'introduzione sveleremo un webinar in anteprima questa sera che terremo sempre in collaborazione con perdomini tra due settimane quindi mi raccomando rimanete connessi immagino che la relazione dovrebbe finire intorno alle 18 e poi ci sarà un spazio di domande risposte prima delle domande risposte condivideremo con voi in anteprima la possibilità di iscrivervi gratuitamente al prossimo webinar sempre organizzato in collaborazione con perdomini allora Fabrizio intanto dice che è un produttore di spumante rosato produce viene rosato anche Pietro ok Francesco sta facendo delle prove nella scuola dove insegna ok Michela collabora con un wine shop che produce vino rosato Luca produce diversi vini rosati fa anche spumanti Giovanni produce rosato anche Francesco Giovanni mi ha scritto una risposta troppo lunga produco rosati e spumanti rosati Concezio io mi occupo di produzione enogastronomica marchigiana di promozione Nicoletta che è bene mi stanno arrivando tantissime risposte non riesco a leggere tutte chiaramente perché siamo in troppi però poi vi rispondo a uno a uno in privato almeno spero di riuscire a fare in tempo quindi perfetto allora io intanto Mirko lascio a te la parola per fare l'introduzione e Filippo adesso ti arriva il comando per condividere il tuo schermo quindi quando sei pronto clicca su adesso ti arriva deve cliccare su mostra schermo perfetto olè fantastico vediamo perfettamente perfetto Mirko lascio a te la parola poi quando finisci l'introduzione ti tolgo il microfono e la webcam io intanto tolgo il mio microfono e la mia webcam però rimango in regia per qualsiasi persona avesse bisogno di aiuto grazie francesco per l'ottima diciamo introduzione buon pomeriggio a tutti sono Mirko soave sono responsabile di per domine io si farò semplicemente una breve introduzione alla presentazione e soprattutto diciamo alla persona che tanti diciamo di voi già conoscono perché Filippo Narsi parla molto bene italiano e gli piace molto l'Italia la presentazione di oggi riguarderà i vini rosati parlo al plurale non parlo di rosato ma parlo di rosati perché perché i vini rosati sono diversi a seconda della regione di provenienza e del mercato di destinazione lo vedremo meglio poi durante la presentazione di Filippo e e ad oggi non esiste una ricetta perfetta per il rosato diciamo ideale tuttavia però ci sono delle ottime diciamo indicazioni e strumenti che fanno che accomunano diciamo tutti questi rosati e che sicuramente contribuiscono alla qualità di tutti questi vini diciamo rosè il vino rosè è diventato un fenomeno di tendenza nel mondo del vino sicuramente la Francia è il paese protagonista per questo diciamo aspetto ma anche in Italia anche se in modo completamente diverso si sta diffondendo questa tendenza ed è proprio dalla Francia che proviene il relatore di oggi Filippo Narsi per chi non lo conosce è enologo consulente ed è direttore di uno degli otto laboratori del gruppo io sì in particolare Filippo è direttore del laboratorio di Bar Sur Seine nella Champagne del Sud laboratorio è un vitigno eclettico in quanto è molto vicino alla regione della Borgogna e alla regione dello Chablis quindi ha a che fare con diverse tipologie di vino sicuramente nella regione della Champagne del Sud il vitigno maggioritario è il Pinot Nero vitigno tanto affascinante quanto difficile da vinificare Filippo però grazie alla sua esperienza eh vinifica il Pinot Nero in diversi modi a seconda dell'obiettivo finale però sarà Filippo che ci mostrerà meglio di cosa stiamo parlando eh nel concorso internazionale riservato ai vini rosati le Mondial du Rosé i vini di Filippo negli ultimi anni hanno sempre ottenuto la medaglia d'oro eh non voglio rubare ulteriore tempo alla presentazione di Filippo e lascio a lui la parola grazie ci ritroveremo poi alla fine della presentazione ok merci a tutti buonasera a tutti allora non vedi più la sì la mia presentazione ok oggi oggi parleremo di rosati di diverse tipologie di rosati quindi rosati fermi con alcune nozioni di carattere generale ma soprattutto vi parlerò delle diverse mode di produrre rosati spumanti quindi per quanto riguarda la spumenti la spumantistica quindi rosati champagne oppure cremò in generale la spumantistica vi darò delle indicazioni su tutto quello che può essere fatto nella mia regione perché abbiamo un po' tutte le modalità di produzione a parte la pressatura diretta perché abbiamo per le o più uve da Pinot Noir e da Menier quindi uve a bacca nera per quale motivo parliamo di rosato? Attualmente se guardiamo gli acquisti il numero di bottiglie acquistate da parte dei consumatori ci rendiamo conto che c'è soprattutto un aumento degli atti di acquisto di vini rosati mentre invece per i vini rossi si riscontra un calo una diminuzione da una quindicina d'anni e questo riguarda anche i vini bianchi quando si acquistano i rosati ebbene il rosato viene acquistato più spesso dei bianchi e dei rossi e quando si compie un atto di acquisto si acquista anche un numero più alto di bottiglie quindi si tratta di una tipologia di prodotto che è di moda e che tende ad aumentare per quanto riguarda i colori questa è una cartella colori che è stata realizzata dal Mondial du Rosé e ci rendiamo conto che i colori sono molto diversificati si va da un colore molto chiaro qui vediamo madreperla chiaro a un colore molto intenso un granato intenso guardando questi colori questa cartella colori peraltro è disponibile dal centre du Rosé nel sud della Francia ed è stata fatta perché tutti i degustatori nell'ambito dei concorsi internazionali utilizzino la stessa terminologia per i colori quindi abbiamo diversi colori e per ogni colore abbiamo il chiaro il normale intenso e quindi nel per quanto riguarda i rosati del mondo attualmente copriamo tutta questa gamma di colori facendo un po' una carrellata rapida tra i diversi colori medi che ritroviamo in Francia vediamo che abbiamo un colore medio abbastanza chiaro sul nord la champagne poi verso l'ovest abbiamo colori più carichi e invece nei vini provenzali abbiamo dei rosati molto chiari quindi delle abitudini culturali di degustazione dei vini rosati se facciamo la media dei colori ci si rende conto questi sono dati del centre du Rosé nel sud della Francia che ogni anno recupera tutti i campioni del concorso internazionale mondiale del rosato ci sono più di mille campioni che vengono da una quarantina di paesi e quando si hanno delle serie rappresentative di una regione è possibile utilizzare questi dati per vedere il colore medio vediamo che la Provenza o la Corsica hanno dei rosati molto pallidi e viceversa invece il nord est il sud ovest l'aloe erano colori molto più intensi per questa presentazione abbiamo anche altri dati interessanti vediamo una tendenza verso colori vi è più più pallidi sempre più pallidi qui ho scattato questa fotografia di alcuni rosati della champagne vediamo che anche se si tratta di rosati di assemblaggio questi sono sempre vini di assemblaggio di vino bianco e di vino rosso vediamo già su questi quattro campioni un profilo abbastanza diverso in funzione dello stile di ogni prodotto e qui ad esempio in uno stesso vignaiolo che produce tre rosati ne abbiamo una sinistra che è uno di assemblaggio poi uno da salasso e uno da macerazione con colori molto diversi che corrispondono a clienti molto diversi quindi tornando a questi colori che sono ottenuti tramite i campioni del mondiale del rosato ci si rende conto che quando c'è un profilo rappresentativo della regione questo colore viene messo all'interno di questa cartella colori e la vediamo che c'è una dispersione del colore che abbastanza importante e quando abbiamo un numero sufficiente di campioni per paese riusciamo a collocare a identificare un po il colore medio del paese si tratta di un colore medio ovviamente questo non significa che in italia tutti i rosati siano tendenzialmente colorati o viceversa tendenzialmente scarichi per la Francia comunque una media rappresentativa che ci mostra come si posiziona la media del per paese e come abbiamo visto c'è questa tendenza del colore verso un colore un po più scarico e quindi un colore che risulti più fresco all'occhio colori rosati rosa con delle sfumature tendenti al violaceo e questo lo osserviamo al centro di rosè è stato fatto una valutazione dell'evoluzione del colore dell'intensità colorante da 18 anni a questa parte qui vediamo ad esempio l'intensità colorante che dal 2002 diminuisce costantemente vediamo che in Francia c'è la stessa curva con questi rosati tendenzialmente chiari e questa stessa cosa si osserva anche a livello mondiale da una ventina ad anni a questa parte osserviamo una diminuzione dell'intensità colorante dei rosati lo vediamo sui vini fermi e lo vediamo anche sui vini spumanti questo è un po' il diagramma che consente la cartella colori che consente un po' di classificare i rosati e la tendenza attuale va in questa direzione ovvero sia avere sempre meno tonalità aranciate e avere sempre più colori che tendono verso il rosa o il viola un'altra osservazione relativa ai mercati che può essere interessante questi sono i principali paesi importatori di vino rosato in volume a livello mondiale e ci rendiamo conto che ci sono quattro paesi la Francia la Germania gli Stati Uniti e il Regno Unito che rappresentano circa due terzi dei volumi mondiali e se prendiamo questi medesimi importatori in valore ci rendiamo conto che i paesi che dominano in valore sono gli Stati Uniti e il Regno Unito che sono i paesi che importano i rosati più cari questa è la stima del prezzo dei vini rosati importati questi sono i prezzi non al consumatore ma i prezzi a livello doganale quindi vediamo i prezzi medi sono più alti per i paesi indicati quindi Stati Uniti e contrariamente alla Francia che tende ad esempio ad importare rosati a prezzo molto basso che vengono utilizzati come base per la spumantistica oppure per la produzione di vini aromatizzati la Svizzera importa poco ma tendenzialmente tende ad importare dei vini ad un prezzo abbastanza che hanno un prezzo abbastanza elevato come peraltro Canada e Giappone un'altra cosa riprendendo sempre questo studio sui colori del vino rosato si sono selezionati sette colori che sono abbastanza rappresentativi dei rosati che vengono prodotti nel mondo e possiamo vedere come si presentano i rosati consumati in sei paesi quindi gli Stati Uniti che sono un grande importatore il Regno Unito e poi paesi produttori come la Francia l'Italia e la Spagna e a sinistra vediamo la la media per quanto riguarda il colore dei vini rosati vediamo che i due paesi mediterranei quindi l'Italia e la Spagna hanno un 50 per cento dei dei rosati consumati che appartengono alle categorie A e B quindi con un colore più carico nel Regno Unito negli Stati Uniti questi paesi sono abbastanza rappresentativi del consumo mondiale e guardando tutti questi paesi ci si rende conto che il colore C è il colore che rappresenta come minimo un terzo dei consumi la Francia è abbastanza atipica poiché è il paese in cui abbiamo meno colore A e B e abbiamo tendenzialmente più colori nella categoria C, D, E, F o anche G quindi la Francia non è rappresentativa del consumo mondiale di vino rosato un'altra cosa interessante che mi ha stupito che è stata una sorpresa per me ed è il consumo di rosati secondo il tenore di zucchero in questo caso si tratta di un dato cumulativo rosati fermi e rosati frizzanti ci rendiamo conto che per lo più siamo tra i quattro e i dieci grammi di residuo zuccherino un po' ovunque la cosa interessante che possiamo notare è che l'Italia e gli Stati Uniti hanno più o meno la stessa tipologia di consumo quindi c'è una categoria che non è molto rappresentata in Italia che è la categoria 10-20 grammi che potrebbe essere la fascia di un futuro prosecco rosato che potrebbe cambiare un po' l'andamento di questo diagramma se ci si interessa a quello che rappresentano i rosati spumanti rispetto agli altri spumanti rappresentano circa un 15 per cento dei rosati a livello mondiale qui a titolo indicativo tipolo informativo la champagne negli anni 2000 2005 è salita rapidamente al 10 per cento e rimaniamo più o meno a questo valore quindi c'è stato un piccolo picco di 11 12 quindi il lo spumante rosato è un po più venduto rispetto allo champagne rosato questi sono i dati di vendita quindi 24,7 milioni di ettolitri 25 milioni di ettolitri quindi complessivamente vedete il 3,7 milioni di ettolitri di rosè spumante qualche informazione generica per quanto riguarda il mercato dei rosati alcune informazioni generali diciamo per quanto riguarda l'uva e per quanto riguarda la vinificazione in rosato quando si fa un'estrazione compressatura diretta con estrazione si ha tendenza ad estrarre queste tre molecole che sono importanti nei vini rosati flavanoli gli antociani che sono davvero responsabili del colore e poi gli acidi idrossicinamici che tendono a favorire l'andamento all'evoluzione del colore verso le note più aranciate se guardiamo la reazione dei pigmenti antocianici quindi all'inizio quando si estraggono gli antociani vediamo che quando abbiamo legami tannini e antociani rimaniamo al ph del vino con colori abbastanza rosei rosati e violacei e non appena abbiamo delle reazioni leggermente ossidative si possono avere dei prodotti di sintesi tipo i piero una pierano antociani che hanno già dei riflessi leggermente ora aranciati stessa cosa con i fenomeni ossidativi dei pierano antociani e con gli acidi idrossicinamici possiamo avere delle reazioni che danno davvero questo colore aranciato ci sono dei vitigni che sono naturalmente molto più ricchi di acido idrossicinamico rispetto ad altri quindi la scelta del vitigno nella produzione dei rosati sarà una scelta fondamentale il problema del rosato ammesso che sia un problema è che spesso il degustatore o meglio il consumatore lo valuta lo giudica sulla base del colore quindi ha già una valutazione a priori su quella che è la qualità del vino sulla sua finezza sulla sua eleganza sul suo corpo già sulla base del colore ha già orientato la degustazione e il cervello riscontra inevitabilmente quelle informazioni che ha acquisito tramite il colore quindi è interessante avere un colore che risulti piacevole e attualmente la moda è quella di avere questa freschezza visiva che bisogna ritrovare anche nel profilo aromatico e all'atto della degustazione il colore è strettamente legato al colore e allo spessore della della buccia quindi abbiamo dei vitigni rosa come la claret rose oppure vitigni grigi come il grenoish gris che o il pinot gris che il no grigio che danno generalmente vini rosati molto pallidi che quindi con colori che hanno con vini con che hanno una presa di colore molto rapida e il vitigno influenza l'intensità del colore quindi gli antociani ma anche la tonalità più una varietà rende più una varietà è acida più il suo colore è vivo e nelle con le uve diciamo meno acide avremo una tonalità un po più aranciata ci sono dei vitigni come il senso che è molto utilizzato nel sud della francia oppure il grenache oppure un altro che meno utilizzato ma che è presente comunque nel sud della francia il tiburin sono noti per essere vitigni con un colore abbastanza aranciato con un tenore elevato di acidi idrossi cinnamici e bassi tenori di glutazione questi vitigni inevitabilmente risultano molto sensibili a questa a questi colori a questa tonalità arancio che attualmente non è molto di moda a parte il vitigno bisogna tenere conto anche del suolo quindi bisogna tenere conto del lo stress idrico oppure dell'irrigazione o meno anche questo può avere un impatto sugli acidi organici che possiamo riscontrare a livello di mosto e più avremo un rapporto elevato acido tartarico acido malico più avremo un ph acido e più avremo questa freschezza visiva che aiuta e che prepara alla degustazione ecco alcuni vitigni vitigni del sud della francia in cui vediamo il potenziale colorante e quando vogliamo avere colore e freschezza nera esatto nei rosati del sud quando si tratti di vini da assemblaggio la sierra è nota per avere questo queste note viola il murvedro invece carignons senso grenache sono per rosati leggeri che fanno volume ma spesso per il colore si rettifica con uno dei vitigni che danno un bel colore in realtà quei vini che hanno già un bel potenziale per la produzione di rossi possono aiutare in piccole quantità alla produzione possono essere utili nella produzione i rosati questi sono vitigni che sono stati seguiti diciamo con attenzione sono vitigni per lo più italiani che possono essere interessanti per avere vini fruttati equilibrati acidi bisogna ricordare anche queste caratteristiche queste note un po più acide questo ph che si può riflettere nell'acidità il prodotto e anche in questa freschezza visiva ecco altri vitigni che possiamo trovare che possono essere utilizzati in francia o in altri paesi con cui si possono utilizzare si possono produrre rossi o rosati interessanti quindi il pinot noir pinot nero e in molti paesi in cui si producono rosati spesso si è soliti assemblare nel mosto oppure durante la macerazione delle uve rosa o bianche come il claret roso il vermentino che che danno queste note un po più chiare questa è la parte diciamo relativa al colore in la seconda parte importante per la produzione di erosati è la parte relativa alla macerazione nella macerazione il parametro importante è la durata della macerazione che dipenderà dallo spessore della buccia e che ci darà già un colore ben preciso del vino è possibile giocare sulla temperatura è possibile giocare sulla durata e il tempo di contatto in funzione dei vitigni sappiamo che più lasciamo macerare a lungo più avremo estrazione di colore e a parità di durata la temperatura di estrazione può diciamo raddoppiare l'estrazione in sostanze coloranti quando abbiamo delle uve che potenzialmente possono dare molto colore si tende a raffreddare le uve con degli scambiatori di colore oppure si tende anche a vendemmiare di notte per avere un'estrazione di colore quanto più limitata possibile per non estrarre subito troppo colore questa è una prova che è stata fatta sulla varietà senso qui vediamo già che il senso è un vitigno piuttosto ricco di acido idrossi cinnamico quindi ha già un colore che tende verso l'arancione quindi il primo campione o una prestatura diretta come una vinificazione in bianco si schiacciano subito gli acini quindi questo colore molto pallido molto scarico sul 2 e 3 abbiamo macerazioni brevi otto ore con temperature di macerazione diverse rispettivamente 12 gradi e 18 gradi vediamo già che abbiamo una colorazione diversa i campioni 4 e 5 ha sempre campioni da macerazione a 12 e a 18 gradi quando vediamo che dopo svecciatura i colori sono diversi dopodiché abbiamo una forte perdita di colore durante la fermentazione alcolica vedremo poi questo aspetto e poi abbiamo il vino finito e la cosa interessante da guardare perché molto spesso ci si concentra sulle chiarifiche eccetera ma vediamo che sull'uno e due già sul mosto abbiamo cose diverse a livello di colore eppure alla fine sul vino finito abbiamo un colore che risulta simile stessa cosa per il 3 e il 4 qui in un caso abbiamo una macerazione di otto ore a 18 gradi nell'altro caso 20 ore a 12 gradi e alla fine a livello di colore arriviamo alla stessa tipologia di vino per questo motivo bisogna prestare attenzione alla temperatura alla durata della macerazione ma questo ci lascia comunque un certo numero di possibilità anche se all'inizio la differenza tra i colori è minima la perdita di colore questa caduta del colore la riscontriamo soprattutto durante la fermentazione alcolica vediamo il mosto solfitato fin dall'inizio abbiamo un effetto diciamo mascherante del colore un effetto di masking del colore bisogna fare sempre attenzione ma diciamo dipende un po dal vitigno ma complessivamente abbiamo grosso modo per quanto riguarda il colore iniziale senza solfiti abbiamo una perdita il 50 per cento del colore durante la fermentazione alcolica successivamente con diversi mezzi ad esempio si può utilizzare un po di carbone dopodiché con i diversi collaggi con le diverse colle che esistono sul mercato è possibile ridurre questa perdita di colore e e poi ci sarà un effetto decolorante della solforosa e qui lo vedremo più tardi bisogna avere comunque una certa su 2 libera ed è la cessione delle su due molecolare che ci dà il colore finale quindi l'effetto il fatto di aggiungere solfiti quindi combiniamo la parte rossa e quindi abbiamo tendenza a far emergere a far saltare a far emergere le note arancioni quindi bisogna fare attenzione bisogna utilizzare solfiti senza esagerare per quanto riguarda la maturità e la quantità la maturità dei composti fenolici quindi gli antociani questi si accumulano aumentano con in funzione della maturazione quindi in funzione del rosato che vogliamo produrre e del colore bisogna trovare il giusto equilibrio tra colore e maturità bisogna tenere conto anche degli aspetti diciamo ergonomici quindi più avremo uve meno ci sarà accumulo di antociani quindi in funzione del metodo se si fa ad esempio un vino da salasso ci si prepara alla preparazione di un rosso avremo inevitabilmente una maturità più spinta rispetto se si fa un rosato che viene da una pressatura diretta oppure se si produce un rosato da macerazione quindi bisogna prestare attenzione agli equilibri ad esempio sui vini basi base per la spumantistica troveremo un equilibrio intorno agli 11 12 gradi al massimo non cerchiamo quindi gradazioni più alte su queste tipologie quando si tratta di vini da pressatura diretta o da macerazione quindi non ricerchiamo la maturità fenolica dei vinaccioli perché altrimenti estraiamo i tannini dei vinaccioli se il rosato è un rosato da salasso e quindi la vasca è destinata alla produzione di rossi avremo bisogno in questo caso di avere una maturità un po diversa e soprattutto per quanto riguarda i rosati dobbiamo avere una sanità delle uve assolutamente ineccepibile questo vale per tutte le tipologie di vino ma in particolare per i rosati perché non appena abbiamo un po di ossidasi di tirosinasi o di laccasi se c'è un po di botrytis avremo inevitabilmente dei rosati che evolvono verso il colore arancio che non è appunto il colore ricercato dai consumatori in questo momento come orientare l'enologia diciamo cosa dobbiamo fare nel corso del processo di vinificazione e lo vedremo nel corso delle diverse fasi della vinificazione come possiamo fare per valorizzare al meglio diciamo il lievito avremo bisogno di scegliere delle torbidità diverse in funzione del lievito che vogliamo utilizzare possiamo diminuire l'intensità colorante sul mosto col carbone utilizzando oppure utilizzando dei collaggi quello che cerchiamo di fare è che il principale difetto sui rosati è l'ossidazione quindi è quello che cerchiamo di evitare non appena c'è ossidazione si passa immediatamente alle note aranciate quindi perdiamo quelle note rosate che tendono al blu che sono più interessanti per quanto riguarda la freschezza visiva per quanto riguarda l'ossidazione bisogna valutare se c'è l'esigenza di correggere a livello dei metalli ferro 2 ferro 3 che possono essere catalizzatori dell'ossidazione quindi si correggono questi aspetti relativi ai metalli un altro intervento enologico importante è fare attenzione ad evitare la riduzione quindi è importante non avere ossidazione ma bisogna altrettanto evitare la riduzione che può avere un effetto mascherante a livello di degustazione ad esempio qui quindi ho dimenticato per quanto riguarda gli interventi enologici abbiamo l'acidificazione più il ph è interessante meno avremo bisogno di utilizzare solforosa per avere una s o 2 molecolare che sia interessante la maggior parte dei rosati al di fuori della champagne la maggior parte dei rosati hanno una fermentazione malolattica quindi se abbiamo ancora acido malico ci proteggiamo per non avere comparsa di batteri dopo l'imbottigliamento quindi bisogna avere una s o 2 molecolare sufficiente a seconda del ph qui abbiamo una piacca che è quello dei vini rosati del sud vini rosati fermi più il ph è basso meno abbiamo bisogno di utilizzare solfitti per avere una s o 2 molecolare sufficiente e avremo comunque stabilizzato nei confronti dell'ossidazione quindi meno avremo s o 2 libera più avremo un colore interessante quindi verso il rosso rosa e blu quindi l'obiettivo è quello di avere questa freschezza visiva quindi a ritrovarla anche al naso a livello aromatico e ritrovarla anche in bocca sempre con questa freschezza aromatica quindi non perdere una parte degli aromi per via dell'ossidazione ma non avere neanche quella riduzione che rischierebbe di essere ancora più nociva poiché avremo una vera e propria maschera aromatica uno degli elementi importanti per quanto riguarda i rosati è il fatto di scegliere lo stile del prodotto che si vuole ottenere sempre nella gamma dei rosati quindi oggi si identificano tre stili quello molto teolico in cui si ricercano le note agrumate le note di pompelmo di frutta esotica frutto della passione e poi abbiamo un'altra tipologia in cui invece si privilegia la pesca la frutta fresca l'ananas quindi una gamma di prodotti che sono molto marcati sul frutto quindi degli esteri di acetato e poi ci sono delle categorie un po' intermedie che hanno un po' queste note agrumate e un po' le note di fragola o di frutta fresca quindi ci sono dei ceppi di lieviti che sono molto adatti per questa tipologia di divini ad esempio la jossi fresh molto fruttato lo utilizzo molto sulle basi pinot noir abbiamo fragola ciliegia lampone note floreali davvero molto fruttato si ricercano quindi questo adatto per quei prodotti con meno solfiti quindi ci sono dei ceppi di lieviti che non ci danno appunto solforosa abbiamo tutta una gamma di di lieviti che corrispondono allo stile che vogliamo ottenere e in funzione dello stile che vogliamo conseguire avremo dei risultati diversi in termini di torbidità o di azoto organico per orientare verso lo stile che vogliamo avere ad esempio oggi nella champagne si ci posizioniamo un po nel mezzo con io si fresh rose oppure gli esteri degli acidi grassi quindi con l'aspetto fruttato non andiamo tanto verso le note agrumate o frutto della passione dopo la teoria la pratica quindi entriamo un po nel vivo dell'argomento per quanto riguarda i metodi di elaborazione ne abbiamo diversi allora la pressatura diretta questo è quanto una tecnica che viene praticata moltissimo nel sud della francia nei rosati provenzali si utilizzano diversi vitigni che sono più o meno colorati più o meno carichi colore e qui abbiamo le uve che vengono incantinate fresche e si fa una vinificazione come quella in bianco però in questo caso il le uve hanno un colore più o meno marcato questa è la tecnica che viene utilizzata più frequentemente adesso basta aggiungere un po di murvedre e un po di sia e si hanno presto dei rosati con un colore interessante sempre tenendo conto che il colore tende a schiarirsi sempre più il secondo metodo che viene utilizzato da molti rosati e anche da vini fermi viene utilizzato anche nella champagne è la tecnica della macerazione qui si tratta per lo più di uve diraspate che vengono lasciate macerare tra 56 ore e 24 ore a temperature che cambiano in funzione del vitigno ad esempio sul pinot noir noi abbiamo una macerazione di 12 15 ore ad una temperatura di 15 gradi quindi viene si mette subito l'uva impressa dopo di che si si pressano e si hanno subito questo succo che è colorato con un colore molto bello si può inertizzare con gas carbonici per non avere fenomeni ossidativi durante la macerazione quindi abbiamo queste uve che vengono lasciate macerare ad una certa temperatura e dopo di che andiamo a pressare tutto invece per quanto riguarda i rosati da salasso questi sono sempre delle uve diraspate la macerazione viene fatta più o meno allo stesso modo come si fa per la macerazione ma in questo caso il serbatoio la vasca inizialmente era prevista per la produzione di rosso e la si prelevano tra il 5 e il 15 per cento per avere questo rosato da salasso quindi questi rosati sono abbastanza colorati perché spesso abbiamo scelto questo mosto mutizzato quindi prendiamo solo questa quantità e il resto l'85 che rimane nel serbatoio servirà alla produzione di un rosso più ricco di polifenoli poi la macerazione carbonica io la utilizzo molto nella mia regione perché c'è un rosato fermo che è abbastanza noto che si chiama rosè d'arissè che viene prodotto necessariamente con il metodo della macerazione carbonica e la varietà il pinot noir si tratta di un metodo che consente di avere non necessariamente tanta sostanza colorante ma poiché abbiamo questa macerazione carbonica spesso abbiamo un profilo aromatico importante è una tecnica che utilizzo anche sul pinot gris che non ha molto colore ma con questa macerazione carbonica abbiamo davvero i risultati molto aromatici può essere interessante quando si fanno gli assemblaggi di rosati può essere interessante avere una o due vasche ottenute per macerazione carbonica che rappresentano una vera e propria bomba a livello aromatico questo dipende dalle regioni nella champagne lo si può fare nei cremò di borgogna lo si può fare probabilmente sarà autorizzato in futuro anche per il prosecco questo assemblaggio di rossi bianchi l'importante è produrre correttamente il proprio rosso e avremo vedremo un po più tardi il protocollo per fare un rosso per destinato alla produzione di spumantistica in questo caso si ricerca il colore il frutto e non si cerca affatto l'estrazione di tannini entriamo appunto su quelle che sono i metodi di vinificazione ricordando quello che bisogna attuare che bisogna implementare per mantenere per preservare questa freschezza visiva delle cose che sono importanti quindi ritorniamo spesso sulle stesse cose ci sono degli strumenti che possono essere interessanti l'utilizzo di gas carbonico per inertizzare le vasche prodotti ricchi di glutatione perché se abbiamo glutatione e glutatione che reagisce con l'ossigeno prima che lo facciano gli antociani abbiamo tannini che possono essere molto anti ossidanti abbiamo il bisolfito idem i prodotti ricchi di glutatione bisogna fare attenzione che siano ricchi di glutatione ridotti perché se avete una parte di glutatione ossidato anche se sono molto ricchi questi non servono a nulla perché il glutatione avrà già reagito quindi prestatura diretta si fa una vinificazione in blanco in bianco quindi dopo la prestatura si vogliono proteggere i tannini perché non ci sia ossidazione si può utilizzare zolfo si possono utilizzare dei lieviti inattivati e ricchi di glutatione che possono già reagire con l'ossigeno quindi quando fermentiamo più abbiamo glutatione nel mezzo quando il lievito fermenta e più ne producono essi stessi quindi è interessante aggiungere prima della fermentazione in modo che il lievito ne sintetizzi ancora di più in modo da avere anche un vino che risulti ben protetto dall'ossidazione lo scopo nei rosati è sempre quello di eliminare le polifenole ossidasi il carbone a dosi ridotte può eliminare molte di queste sostanze abbiamo dei prodotti anche a base di kit in glucano che è un kinox che è un prodotto interessante per catturare alcuni metalli pesanti che sono catalizzatori dell'ossidazione e che consente anche di stabilizzare i composti ossidabili quindi è sempre importante questo mediante sedimentazione mediante chiarifica naturale io pratico anche la flottazione discontinua flottazione discontinua con piccoli flottatori utilizzando soprattutto azoto perché fare una flottazione con ossigeno indurrebbe un'ossidazione quindi non è interessante si fa una flottazione con azoto per eliminare molto ossigeno dal mosto si ha una bella chiarifica importante e sono vini che possono essere sfacciati già un'ora di distanza alla pressatura e questo può essere una tecnica interessante proteggo il mio mosto in questo caso se non abbiamo utilizzato il prodotto all'inizio ne aggiungiamo dopo la fermentazione proprio perché i lieviti trovino 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 il glutatione e poi è possibile scegliere il ceppo che si vuole in funzione dello stile che si vuole ottenere ad esempio ecobiol piede cuve a roma è un prodotto che è stato sviluppato per i rosati perché prepara la parete del lievito mediante assimilazione dei precursori aromatici quindi se abbiamo dei vitigni aromatici più aromatici può essere interessante avere questo protettore che consente al lievito di lavorare bene ma soprattutto di ottimizzare l'utilizzo l'assorbimento dei precursori aromatici nella prestatura diretta bisogna davvero avere quei vitigni che liberano rapidamente il colore nel pinot noir avremo subito un colore ma non lo ritroviamo dopo la fermentazione ci vogliono delle uve tipo grenache senso può essere si era o carigno il pinot noir invece non si presta forse sul primitivo penso che possa essere una tecnica interessante quindi pressatura diretta è un altro aspetto importante alla nutrizione quindi per avere una buona cinetica fermentativa è interessante avere degli attivatori che presentino molto azoto organico in modo da evitare quella che sarebbe l'esplosione di popolazioni di lieviti che rischiano di portare verso note di riduzione piuttosto avere degli attivatori con azoto organico in questo caso il processo sfocia ad avere uno stile focalizzato sui tioli con una torbidità che viene scelta una torbidità di intorno ai 60 ai 100 nt u temperatura di fermentazione tra i 15 e 17 gradi con questo attivatore che è specifico per questi lieviti in modo da avere un'espressione teolica più marcata che è il risultato voluto è un'ottima cosa per i vini fermi ma non è necessariamente quello che si cerca invece per gli spumanti e rosati nel qual caso si privilegia ad esempio con fresh rose questi queste note di fiori rossi peonia rosa fragola pesche mature ananas e anche in questo caso abbiamo un attivatore non ne ha parlato ma comunque questi attivatori che consentono ai lieviti di esprimersi bene in funzione del risultato enologico desiderato vanno utilizzati all'inizio fermentazione come la rom activit 1 per avere invece delle note più fruttate più floreali l'altro questo attivatore va messo al terzo della fermentazione se lo si mette all'inizio non si ha una buona espressione della frutta o dei fiori e qui abbiamo una turbidità media possiamo anche avere una specciatura meno spinta e invece su con specciature più spinte con temperature più basse possiamo avere appunto note di caramella inglese banana fragola con quindi dei cepi di lieviti che tendono ad avere caratteristiche diverse quindi in funzione di quello che c'è a monte la degustazione sarà importante se abbiamo troppi polifenoli se abbiamo una stringenza eccessiva sui vini oppure se abbiamo dei prodotti che tendono ad ossidarsi oppure anche per quanto riguarda il colore in questo caso può essere interessante avere l'apporto l'aggiunta di quinox quindi chitti in glucano per eliminare quelle caratteristiche di ossidazione o per proteggersi dall'ossidazione e questo per stabilizzare anche il vino per bisogno e per valutare bisogna vedere qual è la quantità di proteine e poi tradizionalmente su questi rosati si fa la fermentazione malolattica questo è quello che facciamo nella champagne personalmente non ne faccio tanto ma comunque si tende piuttosto a fare la fermentazione malolattica che si tratti di rosati del sud della Francia o di Spagna o d'Italia la tendenza è quella a bloccare la malolattica spesso non c'è molto malico e in questo caso c'è una prodotta a base chitti in glucano a io se sentinella quindi per bloccare la la malolattica prima dell'imbottigliamento scusate relatore non lo sento più deve aver toccato qualcosa inavvertitamente non sento più il controllatore ok da mio secondo ecco è interessante proteggere il vendemmiato con gaia è un lievito che non fermenta è un lievito che si sviluppa che colonizza il mezzo ma che non degrada gli zuccheri quindi abbiamo una contaminazione positiva per evitare che ci siano lieviti ossidativi che si sviluppano possiamo aggiungere anche dei tannini tannini antiossidanti se vogliamo proteggere un po di più bisolfiti non appena mettiamo dei bisolfiti si maschera un po il colore quindi bisogna prestare attenzione a quanto tempo si lascia a macerare e sapere in che momento interveniamo quindi abbiamo gli enzimi di estrazione per avere qualcosa che si estrae più rapidamente macerazione compressatura dopo 4 a 24 ore e rosato da salasso con il salasso in cui si preleva appunto questa percentuale intorno ai 15 per cento poi si si toglie questa percentuale poi si pressa arresto su questo tipo di macerazione poiché è una tecnica che utilizziamo molto in champagne quando abbiamo rosati più colorati tendo ad avere dei legami tannini antociani in tannino sr è un'evoluzione tannino gallico e tannino di uva volutan è un mix di tannino di semi quindi tannino i vinaccioli e tannino da bucce questo è per fissare la materia colorante per avere meno perdite e avere un bel rosato con un colore che risulti già stabile poi facciamo con come con le altre tipologie di fermentazione quindi utilizziamo del carbone se c'è bisogno di correggere leggermente il colore non bisogna esagerare ma se c'è questa esigenza può essere interessante anche per altre applicazioni quindi può essere interessante eliminare un po di riboflavina e dopodiché abbiamo le stesse protezioni abbiamo le stesse possibilità di scelta a livello dei lieviti da utilizzare oppure delle torbidità scelte quindi ritroviamo lo stesso sistema con la stessa protezione diciamo e malolattica o non malolattica può essere interessante se abbiamo un rosato che viene assemblato con altri vini è possibile esprimere un po di più il frutto avere un po più di estrazione o di complessità per quanto riguarda la macerazione carbonica la ritengo abbastanza interessante quando abbiamo dei vitigni che non sono molto colorati come il pinot noir anche per il sangiovese è interessante tutti quei vitigni grigi diciamo come il pinot grigio può essere una tecnica interessante questo consente di avere un profilo aromatico interessante senza troppo colore questa è una macerazione che non sempre è facile da gestire soprattutto laddove si fa una vendemmia meccanica può essere interessante vendemmiare in parte manualmente perché le uve si utilizzano intere e diciamo la parte che viene pigiata dipende un po dall'intensità colorante che si vuole se si vuole un colore molto scarico un massimo del 5 15 per cento altrimenti si può salire fino anche al 13 per cento della vasca e dopodiché si utilizzano subito dei lieviti per avere una fermentazione che parte nelle ore immediatamente successive qui vediamo il succo d'uva e questi grappoli che sono stati pigiati e abbiamo il gas carbonico che è prodotto dalla fermentazione quindi non è anidride carbonica esogena e prodotta direttamente all'interno del serbatoio certo si può utilizzare anche della neve carbonica questi grappoli ancora è sparita nuovamente la voce al relatore questi quindi senza ossigeno in modo anaerobico si ha davvero una reazione all'interno del grappolo quindi questi pochi grammi di zucchero vengono trasformati in alcol senza passare dalla via fermentativa e quindi questo alcol presente all'interno degli acini consente di estrarre molti precursori aromatici quindi un po' di colore ma soprattutto precursori aromatici quindi questa macerazione in funzione del risultato desiderato la si può praticare con una durata di 23 giorni 4 giorni molte persone che vedo molte persone che fanno produzione di basi champagne mediante macerazione vedono solo il succo che si verso il fondo svinano quando si è persa la metà della densità quindi se la massa diciamo se all'inizio svinano a 1040 più o meno quindi viene pressato il tutto quindi il profilo aromatico che si ottiene è estremamente marcato il rosè da risse viene prodotto proprio con questo metodo e il rosè da risse appunto ha una macerazione in cui si aspetta che il mosto che nel fondo del serbatoio si aspetta di non avere sostanzialmente più zucchero nel succo che c'è in fondo per prima di pressare tutto il contenuto quindi fin dall'inizio proteggiamo con gaia si utilizzano rapidamente lieviti si possono si può utilizzare il bisolfito di ammonio si possono se non si vuole solfitare subito si aggiungono subito dei lieviti in modo da fermentare subito e avere subito la produzione di questo gas carbonico si sceglie il profilo aromatico io amo molto questo profilo con note fresche quindi rosa fragola perché ritengo che dia questo profilo molto interessante frutti rossi frutti di bosco ciliegia lampone molto davvero molto interessante mi piace molto rimontaggio 1 o 2 al giorno temperatura 16 18 gradi e pressatura dopo 2 4 giorni e dopo di che si assembla si assembla il vino di goccia e il vino ottenuto dalla pressatura quindi abbiamo qualcosa che rappresenta sostanzialmente che assomiglia un po' alla pressatura diretta poi si fa la stessa cosa alla fine alla svinatura mettiamo dei tannini per fissare subito il colore e in questo tipo di prodotto facciamo sistematicamente una fermentazione malolattica abbiamo delle cose più interessanti un prodotto che risulta un po' più complesso che risulta più complesso più goloso per così dire rispetto al prodotto senza fermentazione malolattica qui la malolattica non la blocchiamo l'assemblaggio rosso e bianco questo è quello che viene fatto nel 95 per cento dei casi in champagne quindi si sceglie un bel bianco adatto e il rosso dalle note fruttate il colore ma viene fatto un rosso che viene appunto destinato alla produzione di questi assemblaggi è una produzione di un rosso specifico quindi anche lì si proteggono le uve alla vendemmia vendemmia meccanica o di raspatura sistematica si protegge con un lievito non saccharomyces che va ad attecchire a colonizzare quindi nella va a colonizzare la vasca un po di bisolfitto per proteggere un enzima di estrazione per estrarre al massimo il colore poi tannizzazione quindi apporto i tannini durante la fermentazione si utilizzano questi tannini distribuiti su 45 giorni nell'occasione di un rimontaggio si mettono 1 2 grammi di tannini o 15 cc di tannini liquidi per fissare la materia che viene estratta e quindi si fa un'estrazione molto delicata se non si fanno semplicemente dei rimontaggi non follatura quindi una macerazione tra 10 e 14 gradi per un periodo di 3 4 giorni dopodiché si utilizzano i lieviti per quanto riguarda i lieviti a me piace molto rivelazione terroir perché è un ceppo di lieviti che da sempre vini carichi di colore ed è un lievito appunto selezionato in borgogna e utilizziamo anche dinamix dinamix è qualcosa di abbastanza particolare perché abbiamo un mix di cinque ceppi di lieviti e spesso quando si verifica l'attecchimento del lievito abbiamo spesso tre o quattro ceppi che si sviluppano in sequenza e quindi questo dà davvero una grande complessità ci sono alcuni che utilizzano anche fresh rose su questi vini rossi quindi fresh rose che da queste caratteristiche di frutta rossa molto interessante e poi un attivatore di azoto organico quindi per avere una diffusione per avere una diffusione lenta dell'azoto e soprattutto per non avere questa esplosione delle popolazioni di lievito che tendono ad avere un'evoluzione portando a riduzione quello che si cerca di avere è una grande estrazione di colore evitando l'estrazione di tannini in questo caso si svina quindi molto spesso quindi prendiamo questo succo di goccia e quando si svina quando siamo a mille a mille dieci più o meno con un alcol acquisito di 89 gradi quindi cerchiamo di non portare a secco il vendemmiato quindi cerchiamo di avere più alcol e una maggiore estrazione di tannini quindi in degustazione siamo su un rosso rosso molto colorato rosato molto colorato piuttosto che un rosso con una struttura quindi si è molto portati sul frutto sul colore e non sui tannini quindi si fa molta attenzione alla svinatura non appena si sente che si hanno queste questa frutta gradevole si svina rapidamente e poi si fa una pressatura dolce nel senso che abbiamo appunto questo assemblaggio tra il vino di goccia e vino e spremitura la voce al relatore mi spiace ancora scomparsa e in questo caso alla degustazione avremo la sensazione di degustare un vino rosato molto fruttato cosa che se si fa la degustazione con un bicchiere di vetro nero quindi si utilizziamo anche un enzima di chiarificazione fludase al dose indicata in slide e vediamo che questo ci consente di diciamo di far depositare le fecce abbiamo dei vini che possiamo travasare 48 ore dopo avendo eliminato una buona parte delle fecce evitando quei fenomeni riduttivi che rischierebbero di essere penalizzanti quindi travasiamo due giorni dopo e facciamo sistematicamente la fermentazione malolattica perché se estraiamo un po di polifenoli i tannini e il malico sono sempre un po' sgradevole in bocca e quando c'è questa sorta di dissociazione in bocca tra il malico e i tannini e poi quando abbiamo una volta ottenuto il nostro rosso al momento dell'assemblaggio dobbiamo stabilire quello che il colore che vogliamo alla fine quindi si possono fare tanti assemblaggi diciamo l'unico aspetto importante a cui prestare attenzione e fare attenzione al colore vi faccio questo esempio di un rosato ottenuto mediante macerazione carbonica a destra allora il cliente è abituato ad avere dei rosati da macerazione alquanto colorati e prima dell'imbottigliamento aveva il rosato di destra quindi la sua considerazione era quest'anno abbiamo forse svisato svinato troppo presto il colore non è sufficiente in realtà in questo caso tra i due bicchieri c'è forse un quarto d'ora di attesa ho preso qualche goccia di acqua ossigenata ho agitato un quarto d'ora ho aspettato un quarto d'ora e ho ottenuto il vino di sinistra quindi questo è il colore che si ha inizialmente non appena inizia la presa di spuma inizia i lieviti combinano tutto tutti i solfuri liberi il ritorna il colore il colore iniziale quindi se non si fa la desolfitazione potete dire a destra ho fatto un rosato che mi piace chiaro un po' aranciato ma non appena fermenta la presa di spuma si ha molto colore quindi è importante avere il vero colore del vino prima dell'imbottigliamento perché se si fa un assemblaggio è sempre possibile rettificare il colore dopo l'assemblaggio per chi lo può fare ovviamente perché ci sono delle regioni dove è possibile altre no ci sono diverse possibilità si può fare un vino bianco vino rosso con diverse percentuali tra il 5 e 20 per cento il vino rosso in funzione del colore che si vuole ottenere vino bianco più vino rosato da macerazione carbonica quindi con ad esempio una metà di bianco oppure poco bianco si può fare quello che si vuole con una macerazione carbonica che manca un po di freschezza ad esempio si cerca di correggere tenendo con le diverse percentuali si può fare una prestatura diretta macerazione carbonica prestatura diretta più rosato da salasso tutto è possibile una volta che si può assemblare si può fare tutto quello che si vuole comunque chi fa un vero rosato non ha il diritto di assemblare in questo modo ma quando si può assemblare è possibile fare davvero tutto e con presa di spuma a monte è interessante avere colore questo si può fare un ad esempio una soluzione un test con etanale una soluzione di etanale stabile nel tempo la soluzione rapida mettere due o tre gocce di acqua ossigenata è abbastanza una soluzione rapida ma se si aspetta una o due ore si rischia di avere un colore che si ossida rapidamente ma se si vuole vedere il risultato rapidamente non si è costretti a passare dall'etanale se vogliamo parlare un po' delle condizioni ideali per il vino base un alcol 11,40 volume per vini spumanti un po' meno portati diciamo sull'alcolicità si ha qualcosa che diciamo rischia di avere un impatto sulla tenuta della spuma più avrete un vino effervescente con una minore alcolicità più sulla stessa tipologia di vino avrete un vino effervescente con una spuma che regge meno a lungo quindi non sempre è interessante avere dei vini base a 11 e mezzo può essere sufficiente un 10 e mezzo perché comunque alla fine il risultato finale avrà una gradazione alcolica del 12% quindi molto buono sia per quanto riguarda la gradevolezza del vino che per la spuma la su 2 vedete i valori 10 mg litro come riferimento per quanto riguarda il ph tra 3 15 e tra 25 va bene non siamo costretti ad avere i valori come quelli che abbiamo nella champagne o negli o in altri tipologie spumanti un'altra cosa di cui non ho parlato è il gas carbonico quello che ci interessa qui non è tanto per il colore nel caso dei rosati è più per l'efficacia della prema di spuma che la presa di spuma si svolga bene in questo caso bisogna tenere conto che i lieviti sono molto sensibili alla partenza presa di spuma e quindi delle dosi più importanti rischiano di distruggere la popolazione dello starter ancora prima che inizi la presa di spuma poi l'inoculo l'inoculo tradizionale tra un milione e 5 2 milioni dopo il temperatura è tra 13 e 16 gradi quindi a 16 gradi processi sono molto accelerati più la temperatura è alta viceversa più avremo moltiplicazione le popolazioni di lieviti e più ci sarà una perdita di colore da parte a causa dei lieviti se ad esempio abbiamo questa presa di spuma 14 15 gravi concludiamo la presa di spuma con 7 milioni di cellule per millilitro e quindi ci ritroviamo con delle popolazioni di lieviti a cui bisogna prestare una certa attenzione se abbiamo una moltiplicazione molto più importante dei lieviti ci si può ritrovare con 10 15 milioni al sia una perdita di colore e si hanno anche maggiori riduzioni quindi si ha un rosato che risulta meno aromatico al nato al naso quindi evitare una presa di spuma a temperature troppo alte ed evitare gli inoculi con popolazioni troppo importanti è che un 3 milioni e 15 3 milioni va bene diciamo sostanzialmente per avere poca perdita il colore i lieviti i lieviti per la presa di spuma che lieviti per il metodo sharp ma possiamo avere l'ios e fresh rose che è interessante proprio per valorizzare queste note i frutta rossa io si b frizza va molto bene poi abbiamo la lsa io se 18 2007 che è un lievito che viene utilizzato che può essere utilizzato nella charmat senza problemi soprattutto su charmat lunghi in particolare sull'auto lisi può essere interessante charmat che durano anche 18 mesi ma anche se sono rari metodo classico in questo caso si utilizza il lievito tradizionale ls aioc 18 2007 quindi che mantiene questa freschetta questo è interessante l'attivatore extra pm per la presa di spuma ricco attivatore ricco di glutazione quindi se facciamo uno charmat che dura due mesi ad esempio lo facciamo invecchiare un po il fatto di liberare del glutazione consentirà di avere un colore che rimane con questa freschezza rosa un tendente al blu senza che ci sia un'evoluzione verso l'arancio perdita di colore la stessa cosa che nella fermentazione alcolica quindi abbiamo una seconda fermentazione una rifermentazione in bottiglia all'imbottigliamento c'è un po di ossigeno ma non c'è ossidazione del colore che viene subito consumato dai lieviti viceversa guardando la popolazione abbiamo circa 200 milioni di cellule per centimetro cubo cubico su una fermentazione alcolica mentre invece la presa di spuma se non la si fa a temperatura troppo alta avremo un massimo di 10 milioni quando vediamo che perdiamo un 50 per cento di colore durante la fermentazione alcolica diciamo che alla fine ci ritroviamo a perdere un 5 10 per cento il colore di partenza diciamo una perdita di colore ridotta se non c'è un'esplosione della popolazione di lievito a seguito di condizioni fermentative non con perfettamente controllate quindi nei rosati è importante che ci sia la presa di spuma a 13 16 gradi al massimo per il metodo charmat durante il metodo si può utilizzare il quinox che capta i polifenoli ossidabili e poi c'è un tannino di acacia il man bouquet b 19 che mantiene questa freschezza che era presente nelle uve quindi si mantiene la freschezza del frutto e quindi potenzia anche l'aspetto antiossidante poi l'evoluzione del colore nel metodo charmat se non c'è un invecchiamento eccessivo diciamo che agisce sul colore se si sono prese le le precauzioni del caso coi tannini col chiti in glucano con quinox non avremo problemi con l'invecchiamento partiamo da un colore che è tendenzialmente fresco con queste tonalità rosate viola e violace e blu passiamo a un colore un po più aranciato quello che avviene che con i metodi tradizionali durante l'invecchiamento col metodo charmat non c'è molto da fare quindi ben proteggere non avere troppe troppa agitazione dove rischieremo di avere fenomeni ossidativi il problema dell'invecchiamento col metodo classico è che il tapo corona e in funzione della sua permeabilità lascia penetrare ogni giorno dell'ossigeno che un po alla volta progressivamente ossida gli antociani e quindi fa emergere sempre più le tonalità gialle questo è il fenomeno che si produce questo equilibrio parziale tra le pressioni fa sì che ci sia appunto un po di ossigeno che entra e un po di co2 che esce c'è una cosa che funziona molto bene che pratico da circa una ventina d'anni che è il remuage anticipato quindi dopo otto dieci mesi di presa di spuma guardate il colore se il colore davvero di una bella rose ci possono essere ancora dei riflessi blu ma se abbiamo un bel colore abbiamo ancora frutta fresca quindi facciamo remuage delle bottiglie le mettiamo su acquantes quindi su una in vertiche rovesciate sul collo e l'ossigeno entra nella attraverso la capsula però diciamo c'è ancora il deposito la parete dei lieviti catturano buona parte dell'ossigeno che penetra quindi si blocca per così dire l'ossidazione il colore e l'ossidazione degli aromi quindi anche dopo tre o quattro anni avrete un colore rosato che rimane molto fresco e anche gli aromi anche a livello aromatico il vino manterrà queste belle caratteristiche di freschezza e in questo modo risulta molto più facile con questa tecnica piuttosto che recuperare il colore dopo la sboccatura per quanto riguarda l'aggiunta di solfiti l'utilizzo di solfiti vediamo che possiamo avere un colore che sparisce con la solfit avremo comunque bisogno di utilizzare solfiti al momento della sboccatura oppure al momento dell'imbottigliamento se si utilizza se si fa lo charma l'idea comunque è quella di minimizzare quanto più possibile le quantità di solfiti per evitare che emergano troppo queste tonalità arancione questa è appunto questa parte diciamo del nostro ciclo ritorniamo sulle co2 molecolare il ph deve essere quanto più interessante possibile quanto più basso possibile per utilizzare quanto meno co2 possibile al momento della sboccatura in modo contemporaneamente da rafforzare anche l'effetto antiossidante del solforosa con l'acido ascorbico per quanto riguarda i consigli che vi posso dare al momento della sboccatura non fare la sboccatura diciamo con un anno d'anticipo sappiamo che ci sono dei fenomeni ossidativi che si producono in bottiglia chi in champagne fa rosati fa tiene conto di questo aspetto nello scegliere momento la sboccatura talvolta bisogna aspettare 4 6 mesi perché ci sia una buona integrazione della liquor perché risulti piacevole e perché si possa vendere quando in questo modo se si è prestato attenzione si sbocca ha assimilato bene la liquor quindi è meglio sboccare regolarmente piuttosto che fare grosse quantità ci sarà sempre questa bella freschezza a livello visivo ea livello aromatico questa bella freschezza anche in bocca poi un'altra cosa che utilizziamo molto nel mio settore sono il mosto concentrato e rettificato si tratta semplicemente dei costituenti delle uve quindi cosa fruttosio quindi un alico a base di mcr che è molto facile da utilizzare per i rosati senza andare a modificare l'equilibrio che possiamo avere in questo caso questa liquor si sposa molto bene con il rosato senza conferire delle note troppo ossidative il jetting è un metodo che viene utilizzato subito prima la tappatrice alla sboccatura c'è un piccolo getto di vino che va a colpire su un centimetro la superficie del collo della bottiglia fa risalire leggermente il vino spumante è una sorta di effetto pistone che fa fuoriuscire l'ossigeno con una tappatura quindi alla fine ci si ritrova con pochissimo ossigeno in bottiglia e di conseguenza proprio perché c'è meno ossigeno è possibile ridurre le dosi di solfiti al momento della sboccatura tra 10 e 15 milligrammi litro con un ph di 3,2 è sufficiente per ridurre appunto per per ridurre la quantità di solfiti che vengono utilizzati al momento della sboccatura e si può migliorare ulteriormente questa protezione antiossidativa utilizzando aggiungendo dell'acido ascorbico e la cosa interessante è che l'acido ascorbico è anche una miglior la miglior protezione rispetto al gusto di luce se abbiamo dei rosati spumanti con un colore scarico in bottiglia trasparente ci può essere anche il fenomeno del gusto di luce in francia non è così frequente ci sono delle catechine che sono interessanti che proteggono dal gusto di luce e poi c'è il rame che è interessante per proteggere dal gusto di luce ma il rame è un ossidante quindi non è interessante aggiungere rame viceversa l'acido ascorbico tra 7 e 10 grammi può essere una buona soluzione contro il gusto di luce al momento la sboccatura se si è fatto un assemblaggio con un colore troppo scarico oppure che è invecchiato un po troppo si può fare una liquor specifica oppure fare un mix tra mosto concentrato e vino rosso oppure fare un liquor apposta con vino rosso si può ringiovenire per così dire il vino quindi questo può essere abbastanza semplice con la con del vino rosso giovane questa è una cosa che viene fatta ad esempio con alcuni champagne quindi ci saranno queste note rosso o violaccio nel rosso che contribuiranno che aiuteranno al momento dell'apertura la bottiglia consentiranno al consumatore di avere una valutazione positiva del prodotto problema del rosato è che la valutazione è molto soggettiva diciamo per quanto riguarda lo stoccaggio quando lo stoccaggio viene fatto in bottiglie bianche quindi c'è rischio che si sviluppi il gusto di luce quindi si può utilizzare l'acido ascorbico oppure a monte se si possono fare delle prove vedere come ridurre la riboflavina ad esempio scegliendo alcune tipologie di carbone che sono molto golose di riboflavina e che riescono a far scendere la quantità di riboflavina nei vini base con cosa che consente di evitare il gusto di luce poi ovviamente un utilizzo ragionato dei solfiti e poi il discorso dell'affinità della riboflavina per la metionina con questo concluso vi ringrazio vi auguro una buona degustazione di rosati questo è stato uno dei miei rose premiati miglior effervescente al mondo 2016 al concorso mondiale di rose con un assemblaggio di vino bianco vino rosso quindi spero di aver essere stato abbastanza chiaro aspetto le vostre domande che spero saranno numerose varie grazie mille filippe grazie mille federica io attivo la webcam anche a mirko e gli attivo il microfono filippe ti riaccendo il microfono perché filippe parla comunque bene italiano adesso prendo un attimo io il controllo invece del dello schermo intanto mirko lascio a te introdurre un attimo il prossimo webinar che faremo il 30 giugno e condivido invece con tutti voi in chat la possibilità di iscrivervi in anteprima ricordatevi che per tutti i webinar c'è un numero massimo di persone che può partecipare quindi insomma oggi vi diamo la possibilità in anteprima di iscrivervi direttamente al prossimo te lo lascio lascio a spiegare a te mirko di cosa si parlerà ecco grazie francesco eh sì decidere l'argomento diciamo su cui far diciamo concentrarsi per il webinar è molto diciamo difficile in quanto diciamo tanti argomenti magari sono già stati affrontati o discusse in varie occasioni e trovare magari l'argomento che possa comunare tutti i produttori di vino non è diciamo sempre facile in questo caso qua noi abbiamo pensato per il 30 appunto come diceva francesco per il 30 di giugno abbiamo organizzato un webinar che verterà sul fatto che presumibilmente ma questo lascio a voi che sicuramente avete il polso più della situazione di noi diciamo di me sicuramente presumibilmente diciamo dati diciamo il rallentamento dei consumi si può prevedere uno stoccaggio per tempi diciamo più lunghi sia dei vini vecchi ma anche dei vini nuovi quindi diciamo un webinar vertigrà su tutti diciamo quegli accorgimenti tutti quegli strumenti che sono a disposizione per allungare la shelf life del vino sia dei vini vecchi quindi dei vini che ci sono in cantina ma anche diciamo come approcciarsi per avere una shelf life più lunga diciamo così del solito per i vini nuovi durante diciamo la futura vendemmia parlerà diciamo il un nostro diciamo collega che si chiama bertran robillard bertran era direttore ricerca e sviluppo del gruppo moe shandong e parlerà appunto durante questo webinar con questo focus shelf life più lunga sia per i vini vecchi ma anche soprattutto per i vini nuovi spero che possa essere altrettanto interessante come ho visto i partecipanti per quello di oggi grazie io ho parlato dell'assemblaggio di vino rosso di vino bianco per fare vino rosato io parlo di vino rosso della vendemmia e di un assemblaggio di vino bianco che può essere più vecchio per me è importante di avere sempre un po di vino rosso della vendemmia nuova perché quando c'è ancora vino rosso più vecchio non c'è più questo colore rosso e blu comunque deve si fare l'assemblaggio all'inizio l'assemblaggio dei dei vini rossi per avere questa freschezza in bocca al naso e soprattutto alla colore comunque è possibile di avere due terzi di vino rosso più vecchi e un terzo di vino può uno che sarà più interessante per il colore e per la frutta ma quando si fa un assemblaggio e per il prosecco se l'assemblaggio di glera e non è facile quando c'è la possibilità di fare un assemblaggio con vino bianco di pino nero è facile di avere la scelta di un pino nero vinificato in bianco come con una una alla degustazione con molto di frutti rossi comunque è importante di avere questa freschezza del colore sull'assemblaggio anche se ci sono vini vecchi per me è più interessante di avere vino bianco sulla giovanessa giovane e avere un vino rosso giovane ma può avere vino bianco giovane e vino rosso più vecchio ma un po di vino vecchio di vino più giovane per avere questa freschezza e avere il buon colore perfetto grazie mille Filippo fatemi sapere intanto in chat se siete già riusciti ad iscrivervi al prossimo webinar se vi è arrivato il link se riuscite a vederlo altrimenti penso che nel giro di un paio di giorni o poco più troverete tutte le informazioni su su info wine intanto visto che sono arrivate alcune domande durante la presentazione intanto veramente complimenti Filippo perché sono arrivate veramente tantissimi complimenti grazie Mirko per tutti quanti di partecipare e grazie mille veramente anche a Martina che non si vede ma è qui con noi in regia e ha dato una mano sicuramente nell'organizzazione ricorda tutti quanti che domani sera per mail con la mail con la quale vi siete iscritti vi arriva l'attestato di partecipazione oltre all'attestato di partecipazione vi arrivano anche le registrazioni di questo webinar sono delle registrazioni che sono proprio tali e quali a quello che avete visto questa sera successivamente invece su info wine troverete proprio i video tagliati quindi senza la mia parte introduttiva e senza questo intermezzo intanto vedo che le persone sono già iscritte al prossimo webinar quindi adesso poi leggo pian piano quello che stanno scrivendo vedono il link per la registrazione Davide ti arriva domani per mail ok iscritto al prossimo webinar ok fantastico bene dai vedo che tutti se ci sono domande è possibile di fare la domanda sul mio mail è possibile ok perfetto sì la mail di Filippo la trovate all'inizio della presentazione magari posso preferisci che lasci la prima slide Filippo? piuttosto che questa qua? sì il primo scusa comunque adesso passiamo un attimo con la parte delle domande ne sono arrivate tantissime durante la presentazione ancora se volete fare delle domande io lascerei fino alle 19 come tempo le leggo a te Filippo fammi sapere direi che parli tu direttamente in italiano quindi proviamo così in caso poi ci avvarremo ancora della traduzione di Federica partiamo con la domanda di Fabrizio che chiede meglio avere bucce spesse per la produzione di rosati? estraggo meno colore ma riesco ad estrarre gli aromi? non ho capito la domanda su questo allora facciamo allora vediamo di fare facciamo un attimo così guarda dammi due secondi adesso provo a creare un qualcosa in tempo reale per fare la traduzione è interessante di avere c'è interessante di avere c'è interessante di avere c'è interessante di avere c'è interessante ma ci sono deve avere un colore perché quando c'è un problema quando la pellicola è più importante è l'estrazione di di acido comaric più importante comunque c'era più di di arancia al fine ok proviamo un attimo a vedere se stai vedendo il mio schermo Filippo questa era la domanda che era arrivata la vedi tradotta sia in italiano che in francese magari la traduzione in francese non è perfetta però possiamo usare questo strumento per me è più interessante di avere soprattutto il colore il colore e se le bucce sono si la può più fin è più interessante di fare una macerazione più lunga ma al freddo con una temperatura più bassa ok perfetto passo poi alla prossima domanda vediamo quindi è la macerazione carbonica risulta sempre in tempi ristretti tipo 6 o 12 ore domanda di Ruggero su questo tempo 6 o 12 ore è troppo corto per avere la reazione chimica nell'UV per me non è possibile di avere la reazione interessante per i Pricosadaurumi e di colore su questo tempo deve avere almeno due giorni per avere questa reazione senza ossigeno anero via ok allora Antonio invece ci chiede per ottenere le note di rosa ananas bisogna partire da uve aromatiche o anche neutre con l'uso di terminati lieviti no e più si può fare con uve aromatiche ma è poi interessante con un lieviti che dà questa lieviti turbidità delle dei moestri prodotti che vanno che sono con questi lieviti che sono aromatiche uno o due ma il due penso per l'ananas e la rosa deve avere questo mix lievito stimolant non so come si dice questo e con l'asoto organico ok perfetto grazie mille allora passiamo alla domanda invece c'è la domanda di Cristian è chiaro che non è possibile di avere aromi di vino rosso o di fragola o di lampone con un vino bianco è certo comunque deve avere un uve che può dare questi aromi di frutti rossi ma è interessante di avere il buon il buon lievito e quale momento per la protezione del colore quando quando c'è una macerazione c'è un po' di ontossian al momento ci sono ontossian liberi nel vino è interessante di di avere questo aggiunto di di taneo comunque puoi si fare all'inizio dell'inizio della macerazione per avere sempre una la reazione ontossian talino perfetto grazie mille stanno arrivando veramente tantissime domande e complimenti quindi io sto cercando di fare le domande a te di condividere i complimenti in chat e di rispondere in privato a chi li fa adesso passiamo a questa domanda che c'è Riccardo che ci chiede per la macerazione carbonica utilizzi di solito un'autoclave altrimenti quali sono le alternative ai comuni vasi binari non binari ma binari va bene un autoclave può essere bene ma va bene anche un serbatoio con un coperchio all'inizio si mette le uve si mette si fa la fermentazione con lieviti o con CO2 carbonica come si dice guaccio carbonico e dopo si mette il coperchio non chiuso ma si mette il coperchio su questo ma non è facile di fare anche con si fa nella mia ragione anche con con le botte botte senza il coperchio botte di di legno perfetto passiamo poi alla prossima domanda che è la domanda di Andrea è un po' lunga quindi cercherò di vediamo se riesci a tradurmela bene se no in caso guarda pure quella italiana quindi Andrea ci chiede intanto buonasera e complimenti per l'interessante webinar ci chiede se consigli l'utilizzo di tannino antiossidante e vorrebbe chiedere quale sia la sua opinione sulla riduzione dei polifenoli nel mosso tramite chiarifica proteica animale o vegetale che sia l'utilizzo dopo dopo il succo il mosto è interessante di eliminare questi tagliare questi polifenoli ossidabili con proteine animali o vegetali o come il prodotto che si chiama Kinox che è un derivato di Chitin Glucan che è interessante perché non è animale e è giusto vegetale comunque sì è il protocollo di avere questo tannino antiossidante per avere la la reazione dell'ossigeno con il tannino e anche questa reazione tannino e antossidana e eliminare i polifenoli che sono ossidabili che dà amaro che dà assolgenza che non è interessante per il vino fantastico grazie mille allora questa qua la domanda di Marco so che probabilmente è già risposto in parte alla domanda però se riesce a dare qualche informazione in più è interessante la fermatazione carbonica la fermatazione carbonica quando viene utilizzata allora se 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 la c'è la possibilità di fare c'è due due cose ci sono chi me che fa l'aggiunta di solforosa all'inizio nella vasca con le uve quando non si fa una fermatazione comunque quando si fa l'aggiunta rapidamente di di co2 esogeno si si dice cosa esogeno si 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 esogeno esogeno e quando vuole fare una mazzerrazione che si chiama semi carbonica con il co2 del lievito e la fermatazione non si fa l'aggiunta di solforosa all'inizio comunque si fa la giornata prima prima la mazzerrazione carbonica si fa un pied de cuve con lieviti e quando si fa la mazzerrazione carbonica quando si mette le uve nella vasca si fa rapidamente questo aggiunto di pied di lieviti e comunque si fa una fermatazione senza solforosa all'inizio e comunque rapidamente la vasca è sotto il gaso carbonico della fermatazione perfetto grazie mille vado a prendere poi la prossima domanda intanto ricondivido con tutti voi in chat il link per iscriversi al prossimo webinar perché ho visto che magari alcuni di voi non l'hanno ricevuto in caso fatemi sapere se non l'avete ricevuto che ve lo invio privatamente altrimenti nei prossimi giorni troverete su Infowine l'appuntamento altrimenti potete iscrivervi al nostro gruppo facebook che si chiama viticoltura visionaria e lì troverete in anteprima tutti i webinar che organizziamo oppure potete iscrivervi alla nostra newsletter e anche lì verrete informati immediatamente del prossimo webinar quindi passo un attimo alla domanda di di Guido che che ci chiede nella prestatura diretta quanto dovrebbe essere la resa ottimale di mosto sul sulla base non so se si capisce molto questa domanda allora presa la dire sì sì su base ph allora la domanda è qual è il ph di quando si fa questa prestatura diretta qual è il ph che è interessante il più alto o il più basso più alto allora facciamo così Guido specificaci meglio la domanda e passiamo alla prossima faccio la domanda di Paolo quando si si fa questo la rose di senier non c'è ancora di fermatazione comunque c'è una macerazione di macerazione alfredo a 14 o 15 si fa una macerazione e comunque non c'è alcool comunque non c'è un'estrazione di tanino delle uve c'è giusto un po' di tanino delle bucce ma non c'è un'estrazione di tanino a questo tempo comunque l'aggiunta di tanino si fa per avere questa reazione ontosiana e tanino ma non c'è ancora il di tanino perfetto grazie mille allora le questioni perché non ho capito il mosto si tratta a che su extrati sì ma a questo tempo quando si fa questa senier non c'è ancora alcool comunque non c'è l'estrazione dei tanini dell'uve ok perfetto condivido invece adesso Guido che ci fa un esempio prima che ci chiedeva del PH Guido adesso ho specificato un attimo meglio la domanda ok questo ah sì questo è l'estrazione della sì un PH3-2 sì ma può essere interessante di fare un'estrazione più importante un'estrazione più importante ed avere un PH un po' più alto e comunque è interessante di fare un'aggiunta di acido tartarico per abbassare un po' il PH dipende anche dalla quantità di potassio o di calcio che sono nel mosto comunque ok perfetto il PH più il PH è basso e acido e più il colore è rosso 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 blu ok grazie allora qui c'è una domanda magari un po' più sulla legislazione italiana Mirko non so se te la senti rispondere tu altrimenti poi puoi rispondere se la conosco volentieri allora mi chiede Simone o se magari puoi rispondere qualcuno poi dal pubblico in caso alla domanda di Simone dice se non mi sbaglio in Italia non è consentito effettuare tagli tra vino bianco e rosso pertanto non posso ottenere un vino rosato di metodo classico perfettamente colorato vivacemente mi date conferma o se si può fare in caso sì io ho fatto la presentazione di assemblaggio vino bianco vino rosso piuttosto per il prosecco per il charmat che si farà si farà così il prosecco l'assemblaggio di glera e di pino nero esatto per l'altrile non lo so in italiano penso che penso che è difficile perché non c'è a livello dell'Europa non c'era veramente una decisione su sulla l'assemblaggio pino rosso penso che dipende del paese è possibile di fare perché è possibile di farlo per il prosecco penso che dipende del paese comunque in Francia è possibile in Champagne ma è possibile in Borgogna di fare Cremont de Borgogna con l'assemblaggio penso che è possibile quando si fa dipende della regione e dipende del paese ok qui vedo anche nei commenti che stanno arrivando veramente tantissimi tantissimi commenti c'è chi sostiene che si lo fa l'Italia io vedo dai commenti di persone che dicono che hanno appena anche seguito un corso di legislazione viticola dicono che probabilmente almeno io interpreto quello che viene detto non sono un esperto che è possibile soltanto ne vieni spumati mentre su quelli fermi invece non è non è legale ecco allora adesso condivido la risposta di Alberto ok comunque continuiamo un attimo con le domande che in realtà sono tantissime cioè vuol dire che hai fatto una presentazione veramente interessante Filippo e immagino che Mirko voi io poi stasera ti mando il file excel dove ci sono tutte le domande registrate quindi nei prossimi giorni troverete una risposta direttamente dal team per domini questa sera non riusciamo a farle tutte perché sono veramente stiamo qui riconnessi fino a domani mattina quindi direi di chiudere con forse le ultime tre faccio la domanda di di Alfredo che ci chiede come si può ridurre quel gusto di vino rosso nei rosati adesso te la la condivido quando quando il rosati è troppo sul vino rosso ci sono diverse diverse possibilità c'è collagio collagio può essere interessante un collagio con con dipende perché ci sono tanti colle c'è una colla che va bene per me sul vino rosso e sul vino rosati è un un estratto di di lieviti il fine o che è un una colla di chi viene del lieviti che è interessante per eliminare questa finale che può essere un po' sul vino rosso dopo c'è c'è un vino fermo sono un roso fermo non vino spumante giusto vino rosso penso che non lo so penso che sia spumante però c'è la possibilità di usare anche collagio può essere senti c'è la possibilità di aggiungere anche manoproteine che possono avere un qualcosa di interessante sulla finale sempre la finale in bocca del gusto di vino ci sono qualche manoproteine che può essere interessante qualche tannino di ciliage sì ciliage sì che può essere interessante per avere un po' più di frutta in bocca c'è l'acidità può essere interessante per non essere sul finale delle polifenoli del vino rosso ma di essere sull'acidità comunque può essere interessante di aggiungere 5 grammi di acido citrico per esempio ma il migliore è degustare il vino e di sapere che cosa è facile da fare ok perfetto grazie mille adesso c'è una domanda di Cosimo che è veramente una domanda da un milione di euro perché mi chiede come si possono ottenere dei rosati longevi e senza perdita di colore in vino fermo dopo normalmente c'è anche rosè lunga conservazione rosato invecchiamento lungo e qual è questo lungo più di un anno o tre anni o quattro anni o dieci anni ci sono sempre problemi di ossidazione comunque è importante di guardare su questi vini i metalli guardare se c'è troppo di ferro troppo di rame che sono prodotti che dà un'ossidazione può essere interessante di aggiungere acido ascorbico per limitare questo invecchiamento e ossidazione ma minima ossidazione che è sempre nel vino rosato perfetto la ricetta può essere il più importante è di avere un non di avere ossigeno una bottiglia durante questo invecchiamento comunque il tappo deve essere buonissimo e comunque c'è la possibilità c'è un lavoro che lo faccio che fa un aggiunto di lieviti di lieviti nelle bottiglie e fa un invecchiamento di queste bottiglie come il colo come lievito nel basso della bottiglia comunque la bottiglia non è nel buon senso è messo la testa bassa con un po' di deposito di lieviti inattivati in queste bottiglie e quando si apre la bottiglia si prende la bottiglia nel buon senso e dopo c'è questa e come il rommaggio anticipato in champagne permette di avere questa l'ossigeno non è bloccato dal deposito ma è difficile di unire bottiglia in bottiglia in vetro bianco è difficile di avere questo deposito nella bottiglia è difficile per me un buon tapo è un po' di di ossigeno un po' di di sulforosa un po' di acido ascorbico c'è la possibilità anche di mettere un po' di tannino antiossidente ma un tannino che leggero che non dà un po' astringenza della bocca ok perfetto intanto mi hanno chiesto se potevo condividere ancora la tua mail Filippo ho rimesso la slide quindi potete segnarvi la mail che la trovate in basso a destra nella slide direi di fare proprio le ultime domande vi faccio la domanda di Luca allora è un po' lunghetta quindi speriamo che venga tradotta bene Luca ci chiede vorrei chiedere a Filippo se in Francia si producono spumanti rosè con tecnica charmat o champenoise da vini base provenienti da uve raccolte meccanicamente ok inoltre se si creano assemblaggi tra vini base e rosè raccolti da uve manualmente da uve raccolte meccanicamente allora in Champagne è vietato di fare una ricolta meccanica comunque in Champagne si deve fare una vendemmia una ricolta manuale ma su altre regioni è possibile di fare vino di base vino di base si non è non è un problema charmat si fa anche in diverse regioni raccolte meccaniche si si disassombrano anche assemblaggio si ma si tutto è tutto questo è possibile di fare le due quando abbiamo vino di rose di macerazione un vino di rose di prestatura diretta è possibile di fare la prestatura diretta con uve raccolte manualmente e la macerazione o la rose di senere con una raccolta meccanica e c'è la possibilità di fare le le assemblaggi non c'è problema il problema è di avere belle uve e dopo di fare la la vinificazione dopo ci sono due vino rose diverse si può fare gli assemblaggi ma non c'è un problema esistono in qualche nella regione prossima vicina che la la burgogna dal nord della burgogna si fa queste queste assombraggini ok scusate non mi era accorto che effettivamente avevo sbagliato a condividere lo schermo quindi adesso vi faccio vedere un attimo meglio la mail di Filippo adesso vediamo un attimo che si mette ci mette un po caricare perfetto e io direi di chiudere qui con le domande perché ce ne sono veramente tantissime Mirko ti darò poi stasera il ho i compiti per casa file esatto e ringrazio tutti quanti per le domande scusate se non siamo riusciti a rispondere ma ce ne sono almeno 50 alcune anche in altre lingue quindi davvero pubblico molto interattivo questa sera quindi grazie mille faccio un ringraziamento a Federica che è stata veramente bravissima nella traduzione simultanea ti sono arrivati veramente tantissimi complimenti un ringraziamento anche a Filippo e a Mirko e a Martina che ci sta dando la mano in regia quindi grazie mille vi lascio fare un saluto finale Mirko e Filippo buona serata a tutti grazie ancora per la partecipazione e niente se vi fa piacere ci vediamo appunto il 30 di giugno assolutamente ci vediamo il 30 di giugno mi raccomando se non vi siete iscritti adesso troverete poi il webinar sul gruppo facebook in anteprima viticoltura visionaria troverete anche le registrazioni o parte delle registrazioni sul canale facebook sul canale youtube di viticoltura visionaria altrimenti anche sulla nostra pagina www.infowine.com quindi un saluto a tutti quanti e a presto buona serata buona serata grazie a voi grazie Grazie a tutti